L'Emilia Romagna sbarca a Berlino. In occasione della Borsa Internazionale del Turismo, 14 operatori turistici della regione saranno presenti dal 6 al 10 marzo nella capitale della Repubblica Federale di Germania. Con il coordinamento di APT Servizi, le imprese regionali verranno ospitate nello stand Emilia Romagna, collocato nell'area Enit, dove verrà allestita anche una sala stampa per l'incontro con i media tedeschi. Lo stand regionale sarà arredato con grandi pannelli che rilanceranno, assieme al video in lingua tedesca, la campagna di comunicazione Emilia Romagna, terra con l'anima e col sorriso, filo conduttore delle azioni promozionali 2013. Presente a Berlino il presidente di APT Servizi, Liviana Zanetti, e il sindaco di Rimini, Andrea Agnassi, che avrà incontri con la stampa tedesca. Nella giornata inaugurale dell'ITB, APT Servizi presenterà la seconda edizione di Blogville Emilia Romagna, che inizierà il 29 aprile e avrà una durata di 5 mesi. Questo innovativo progetto di comunicazione digitale per la promozione di una destinazione turistica ha visto la partecipazione, nella sua prima edizione nel 2012, di oltre 50 travel bloggers internazionali, provenienti da 11 paesi che hanno visitato e raccontato l'Emilia Romagna sul web. La Germania è il mercato turistico estero-centrale per l'Emilia Romagna e APT Servizi ha messo a punto nel 2013 un piano di interventi che prevede la partecipazione ai più importanti eventi fieristici e la realizzazione di educational per tour operator e giornalisti. Al momento sono 29 gli operatori turistici regionali presenti che propongono pacchetti vacanza. Al mercato tedesco è dedicato anche il sito internet www.emiliaromagnaturismo.it.de dove, oltre a informazioni dettagliate sull'offerta turistica regionale, si può accedere a proposte vacanza messe a punto dagli operatori regionali.